ah no mandetta regolare per questo finale e guardiamo al pubblico che gli ultimi tre G ci sarà di eliminazione ad un Giro e guardiamo al pubblico il prossimo passaggio sopra la campana per avviarci che l'eliminazione ad un Giro salta l'eliminazione in questo Giro per il ritiro dell'attività con il ruolo campana di eliminazione per il prossimo Giro eliminazione del numero 219 e guardiamo al pubblico e guardiamo al pubblico attenzione alla lunga saltano per l'eliminazione saltano per questi giri dai dammi dai dammi e guardiamo al pubblico e guardiamo al pubblico la campana almeno 38 con le prossime eliminazioni almeno 37 e guardiamo al pubblico per il prossimo Giro per il prossimo Giro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti